Ciao a tutti sorrisini e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in spiaggia a Lido Adriano e farò un video per voi insieme alle mie super fan Che si chiamano? No, Paolo Come vi chiamate? Thomas Thomas non è un mio fan, è mio figlio Vabbè, dopo vi diremo i nomi Allora, lei è Lisa Sì E oggi farà per noi la presentatrice Giusto? Sì Quindi abbiamo la nostra mascotte, che è la nostra cacchina È una mascotte, ma è la nostra cacchina E un bel libro di barzellette E faremo la... Prova a non ridere challenge Prova a non ridere challenge Allora, siamo cinque coppie Giusto? Una, due, tre, quattro, cinque Vediamo che vince Tutto qua Quindi pronta? Lei ci racconterà le barzellette Vediamo un po' cosa salta fuori Pronti? Via Ok, un bel sorso d'acqua E poi Lisa potrà cominciare Una taglialegna va in negozio di un abbigliamento E chiede alla commessa Vorrei un paio di jeans E la signorina domanda Che taglia? La legna Penitenza Penitenza che cos'è una zebra? un cavallo evaso dal carcere bambini come vorreste che fossero la vostra scuola? rispondono in coro gli scolari chiusa penitenza sapete perché il pomodoro non riesce a dormire? perché l'insalata russa penitenza ma? seلف chiusi 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 il dottore ha detto che devo mangiare leggero e io da quattro mesi che mangio con la canottiera penitenza allora direi di controllare chi ha vinto allora giudice venga qua prenda una bottiglietta alla volta facciamo vedere le bottigliette allora quella di miss mamma sorriso è Irene questa la sua eh la vostra vabbè la loro è completamente vuota mattini mettiti lì direi che decretiamo vincitori Sapa e Ale adesso una alla volta ve le voglio far salutare tutte quindi vabbè Lisa ormai la conoscete la nostra presentatrice vi saluta è stata bravissima allora io voglio ricordarvi che siamo in spiaggia quindi il volume e l'audio è quello che è accontentiamoci però ci tenevo a fare questo video con loro quindi spero che il video vi piaccia comunque in ogni caso è stato divertente voglio anche che vengano a salutare le altre quindi come si è stati si è stati bravi? si è abbastanza io sono stata brava a me è rivolto nessuno mamma c'è 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 vediamo un po' anche lei voglio dire un po' vediamola questa qua che non si è bagnata per niente la nostra cacchina mascota si è rotta si è rotta ma la ma la ricompreremo allora dai venite qua una volta a salutare Marta vieni allora lei è Marta anche lei non è bagnata però vabbè se non volevamo spoilerare dove siamo siamo al bagno corallo a Lido Adriano vieni Ludo poi qua c'è la Ludo la Ludo anche lei poco bagnata è bello che se pensiamo che sono tutti sputi è una meraviglia la mia compagna di avventura fantastica l'ha stata bravissima si è presa due trasputti in faccia da mia mamma sorriso così è gratis va bene poi lei poverina è qua che dice boh perché ho accettato di fare questo video? perché ho fatto questo video? poi ci sono i genitori dietro che ci guardano sbalorditi e dicono ma questa è una matta una mamma un po' matta vabbè ce la mettiamo così e io ho fatto salutare tutti? Melissa Melissa c'è anche la Melissa allora si è rotta la canca vabbè allora voglio ringraziare i genitori che sono qua dietro anche se non li vedete li ringrazio tanto perché è bello fare queste cose anche con i fan e niente quindi ci vediamo al prossimo video viva i sorrisini viva l'idodriana e viva tutti gli infatti cosa è successo? ho l'articolo ma che cosa? grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.